salve a tutti ragazzi sono l'arcane vi do benvenuto a questo nuovo filmato riprendiamo le mani di mario 480 mila abbiamo analizzato stamattina ieri non mi ricordo più le prime mani che mi ha mandato poi mi ha detto no ma guarda che io ho altre 50 mila mani giocate dopo dopo di matto ma non importa va bene cerchiamo di analizzare anche queste che vengono dopo quelle precedentemente caricate e analizzate ma va bene allora nel m5 qualche modo l'abbiamo battuto 30 mila mani abbiamo fatto spero che io abbia un po di rake back attiva per cui immagino almeno 50 euro di break quindi 200 200 totali profit e abbiamo arrivato un po sotto via non ci interessa molto la cosa che a noi interessa è che le linee di gioco sono rimaste circa identiche tranno le mie 5 non le mie 10 e immagino che su 20 mila mani le stazioni siano troppo attendibili ma l'attività è rimasta uguale perché la presa è rimasta uguale vp è rimasto uguale il gap è rimasto identico la linea di gioco è un po troppo simile normalmente consiglio proprio come routine giochiamo evolviamo miglioriamo studiamo non giochiamo e basta perché se noi giochiamo 30 mila mani al 5 e pensiamo che con lo stesso stile faremo gli stessi soldi al livello successivo è improbabile magari la ranna ce lo permetterà ma è piuttosto improbabile comunque adesso abbiamo zero vbb abbiamo fatto 200 direi che quindi immagino che io sia in profitto sperando insomma e che abbia bec attiva quindi siamo breakeven comunque come vi chiaramente breakeven di vi si risponde tantissima varianza e non ci fa fare sostanzialmente profitto dobbiamo vedere un attimo da posizione perché abbiamo un gap di colla abbastanza presente non so se voglio filtrare solo le mani del 10 perché poi diventano troppo poche però probabilmente dovrei ma non importa a vedere tanto devo vedere poca roba poi ci concentriamo sulle mani specifico voglio vedere questo gap di colla cosa combina allora stiamo facendo profitto da small blind do di matto non dovrebbe essere così i vendi alle altre posizioni leggerissimo profitto da bottone con un po di ripresa sul finale ma sia sulle mani non è che siano tante ma il punto è che comunque nel nostro cap di colla abbiamo tutto questo range che non dico che debba sparire ma quasi sì praticamente dobbiamo sicuramente prendere un po di punto il tribet ridurre il gap di colla aumentare quindi la nostra frequenza di tribet avere anche qualche forza senz'altro ma non possiamo avere questo gap di call che capi range che gioca male che poi si espone all'essere palleggiato dai regolar che regala equity ai blind insomma sono un sacco di motivi per cui generalmente non vogliamo avere un range di call a meno che non ci sia un motivo per farlo questo range è troppo wide e troppo debole sostanzialmente per poter pensare di fare soldi in in col collo non che sia troppo debole in assoluto cioè non andiamo a chiamare mani troppo a caso ma cerchiamo di avere mani sensate ricordiamoci che quello che chiamiamo non lo stiamo tribettando e questo può essere un discreto problema visto che dobbiamo aumentare un po la nostra tribet vorrei vedere affrontando un raiser invece contro un singolo raiser sempre la stessa situazione perché abbiamo anche quindi gap di colla quindi stiamo facendo soldi col collando da small blind contro raiser do di matto queste sono cose che non dovrebbero accadere nel senso che non dovremmo farlo molto spesso il gap di colla small blind non è un gran segnale contro un raiser stiamo veramente over collando adesso ho già condiviso il materiale sullo precedente dove fra l'altro analizziamo anche queste macro per cui qui stiamo facendo soldi probabilmente l'opposizione è stata abbastanza fischiosa da pagarci in qualche modo ma chiamiamo veramente troppe mani fuori posizione microstakes generalmente un disastro andiamo a mettere un attimo da bene possiamo andare dai stakes e prendiamo un attimo una mano del 10 per vedere un attimo anche le stats in generale ma vogliamo concentrarci sulle linee di gioco pass flop perché iro mi diceva che li sta un po soffrendo così diceva comunque stats da sistemare gap di call assolutamente da rivedere linee di tribet da aumentare format plus per ora non mi interessa so che lo dico spesso e non voglio dire non studiate questa dinamica ma la studieremo dopo adesso dobbiamo mettere tante cose su cui migliorare che non ci interessa troppo ottimizzare file bet for bet e linee di di questo genere che sono anche piuttosto una risposta un abbastanza poco per questo stake per ora guardate anche gli avversari c'hanno a tre di tre metti in quel tema di quattro e tre metti tutti i giocatori molto conservativi va bene essere sbilanciati in una linea un po troppo chiusa race first in troppo basso e rilanciamo e chiamiamo troppo rilanciamo troppo poco blind versus blank quello già gli ho scritto insomma da rivedere in toto stiamo over foldando tantissimo e ce lo siamo tenuto come macro lì assolutamente da sistemare gli nc bet basse 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 proprio basse 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 dobbiamo ricordarci un po che uno il field tende a fare tanti errori presto un sacco di errori per flop un botto di errori al flop poi i regolar fanno un po più spesso errori di turn e river soprattutto in aggressività altro ma se noi abbiamo queste tendenze basse soprattutto al flop sostanzialmente e per flop chiamando e post flop ci mettendo poco credendo poco stiamo praticamente regalando più quintali di realizzazione di equità degli avversari e non stiamo esploitando i loro errori anzi li giochiamo al contrario andiamo a perdere in sostanza un sacco di evi in spot di evi pazzeschi benissimo che abbiamo eliminato la nostra don bet perché nel video precedente mi stava dando di matto anche solo vedere quella quella statistica va bene andiamo comunque ad analizzare un po di mani quindi giusto per concentrarci su qualcosa di concreto poi a iro dico non è che è solo il pre flop il problema cioè sistemato per flop poi dobbiamo creare un buon profilo post flop che trasporti un botte che in process comunque andiamo a vedere qualche mano capiamoci ricordiamoci nella rio precedente era un po importante insomma la situazione che si era andata a creare comunque ok apriamo contro giocatore ultra stationary le mani sono poche vedo una strada river bett ma il profilo è ultra passivo in generale questa river bett 67 ma sarà 8 su 12 non è neanche così poco comunque ok qua siamo i p siamo una situazione contro fish decidiamo agli alzare seismi va bene turn un 9 chiude q10 chiude 18 due mani nel range del nostro avversario potremmo anche scegliere la strada del check back e valutare diverso oppo check o chiamare se oppo betta resare complicato si sul k forse ma non necessariamente la donna non la reggerei non è uno spot fantastico il 9 migliora range avversario una size un'altra size di volume può andare ma dovremmo ridurla e invece tiriamo una bombazza come idea generale tan migliora range di oppo chiude doppio doppio incasso cioè sia dieci otto che con 10.000 ma chiude anche scale da doppia in più no sul 9 oppo povere già 9 7 9 e altro e quindi l'idea di ridurre size è preferibile se vogliamo ribarellare piuttosto che tenere 6 così grandi qui come comunque abbiamo bettato forte adesso poi resa qui ed è super complicato perché comunque un profilo molto passivo ha una bassa tribetto può girarci di capa jack di capa 9 potrebbe addirittura girarsi a k anche se ma l'aspetto ogni tanto tribetato pre ogni tonto ha resato flop ma non è quello che vogliamo far vedere qua soprattutto quando facciamo una size grande range di oppo tende a diventare ancora più forte quindi con size più piccolo la difesa è un po più normale con questa size è complicato poi qua andiamo in riresa sperando che oppo abbia cuori però blocchiamo cuori qui ho poco 10 mano proprio abc giocata al nostro avversario in generale va bene ridere alzare size se abbiamo ragionato a quel modo valutiamo l'idea di cecare tardi e credo chiamerei adesso questo river se oppo mi esce mettando visto profilo e ma li metterei se cecca sì perché avrà tante mani come jack 10 jack e tante mani che ci possono chiamare una beta to fold va bene vediamo qualche altra mano apertura tribetiamo ip che può andare oppo cioè può andare un range un po luce di tribet ma in generale va bene tribetata questi stake senz'altro oppo qua ci chiama siamo ip oppo check è una texture che possiamo battare decidiamo per una beta 6 che va bene oppo difende qua tarn di in q in realtà qui scegliamo una beta abbastanza alta che mi piace e river siamo in betta ancora se vabbè in realtà una linea che non mi dispiace affatto per come l'abbiamo scelta visto tarn visti blocchers che abbiamo river visto il range dell'avversario l'assenza di cuori non è una mano che mi dispiace cercata così ci sta aggredire un po tra l'altro se inizia a criticare le mani dove andiamo intribare finisce che riduco le frequenze di hero quando le volevo aumentare vabbè qua floppiamo con ore non ce ne frega niente di come cercano questa mano decidiamo di cercare fra l'altro un po a caso questa scelta jack mi raise va bene ovviamente si cerca mi resti ma avrevo gli obiettato un po più serenamente non è che serva giocarle piano le mani forti perché siamo contro quattro giocatori direi che almeno uno qualcosa avrà da chiamare chiami da big blind contro questo tizio va bene se ti c'è c'è crazy e allora se c'è crazy su lettura mi va bene sono linee di massima cerca di non c'è cresare il board dove ho vantaggio di range tipo mai ora qua mi va bene nel senso che tanto un po è una bc nel senso è molto simile a te come giocatore se ho poco a mani come a cappa eccetera ci paga sempre veramente sempre sempre se c'è crazy però cerca di cambiare size quindi tu fai questa strana size 3 per poi sul rilascio di oppo ma metti oppo al 24 e mezzo cerca di metterla torna al 30 cioè vai almeno a 12 bui qua chiama la size come idea quindi crei un po di 12 e mezzo e la rilanci quindi mi vai attorno ai 12 15 bui no per rilanciare qua se mi vai così in realtà lo mette molto corto se anche una mano tipo asso q asso jack o qualsiasi incastro o tre quinte di colore va a finire che realizza lui comunque bene tarn va bene senz'altro qui tiri una mina ti crei sto pot vabbè qui mandi la vasca non è che ci sono molti dubbi poi ho passettato il niente massima non preferisco non c'è cresare a meno di non avere giocatori proprio sbilanciate abc che mi pagano sempre che non sanno fondare capo tanto fa full a capo eccetera ma se non è rimasto sempre fresco non c'è cresare ma va bene almeno siamo comunque contro in una situazione dove la cosa fa soldi tribetti da contro le position che for betta e non è uno spot dove staccherei off ora oppo non è un super stinco di santo quindi la situazione non è male se brocchi ma bloccherei contro un'altra posizione piuttosto che contro nelle position dove le sue frequenze sono molto molto forti e nota per questa per così giusto per comprensione oppo apre dalle prime posizioni tutti foldano fino a big blind che resa siamo a questo punto si è da un attimo che resa un attimo fatemi fondare small blind che avevo fatti vedere questo questo dovevo mostrarti nota che jack jack non è una tribet standard vedi come idea generale solver ce la fa anche chiamare e se ti ripetiamo va bene ho poco a resa e nota qui il nostro jack jack diventa un call non è più un resa e non è una mano super standard avere in questa macro poi se sei contro giocatore come playa va benissimo senz'altro giocamano così ora qui in questo caso particolare se non tavolo circa reggish cioè nessuno ha un reg particolarmente importante ma sono tutti comunque di profilo reggish e quindi queste mani cerca di giocarle al top e non andare in over playing in queste dinamiche vado ecco appoggi la kk ma di nuovo non mi interessa troppo adesso sottolineare l'idea dei format class perché le tribet class perché insomma non è lo sport dove facciamo tanto anche se qua di nuovo se contro 16 13 7 super niti ultrapassivo che di for betta serie dell'idea di avere questa mano in colpi piuttosto che in stac off perché semplicemente ci cambia posizione e di nuovo se contro nelle position che apre pochissimo apre veramente poco quindi siamo contro dei range fortissimi qualche amipi vabbè poi vabbè giocala come voi questa mano va bene ottima con buona comunque secondo me lasciate di chiamare piuttosto che standard broccale l'importante fallo con un motivo contro altri giocatori stacchiamo e qui vediamo la mano dal punto di vista di c'è chi gore ok assi giocatore a quello fatto una review qualche tempo fa allora succede che noi abbiamo cosa abbiamo che lo sa abbiamo 8 e 7 suite da qui ora non ti dico di non rilanciarla perché il mio obiettivo alzare tue range ma nota che questa è una macro dove il tuo range dovrebbe calare piuttosto che aumentare per questo per consolidare lettura alla tua sinistra i due fish con alto vpp quindi frequenti call in posizione alla tua destra cioè dai blinds per intenderci ai due profili regish succederà spesso che tu rilanci il range aumentato chiamano i fish blinds hanno un sacco di evi per chiamare mani extra per trivettare mani extra al contrario queste mani le puoi aprire cioè regular knit la tua sinistra e fish alla tua destra questo poi adesso sempre perché non vogliamo fare un po quelli che usano i software comunque hijack eccolo qua circa è già che questo è a 8 e 7 una volta s 4 c'è una rilancia ogni tanto insomma un quarto della volta rilancia questo è uno spot dove puoi non rilanciare questa mano poi qua viene tribettato basso 10 suite questo ovviamente noi non lo sappiamo comunque una volta che noi apriamo questa mano adesso qui abbiamo aperto forza solver devo fare altre cose oggi non ho tempo di perdermi contro quello che stai facendo le due trivetta da big blind prima di big blind sta a noi forse oggi è difficile costruire le figure a quanto pare va bene nota 87 va bene averle in colma delle due combo che aprivamo metà le chiamiamo metà le fogliamo non è proprio la miglior mano e non era secondo me da aprire pro flop in questo contesto l'idea di far mettere fuori discussione troversano fonda mai questa macro quindi non credo andrei mai a far mettere poi qualche ami tu hai 87 a cosa a fiori quindi ti senti molto figo molto felice altissime frequenze di pezzo del tuo avversario difendido risare lì si abituati a risare i borda dove oppo ha vantaggio di range è proprio una pessima abitudine da avere in generale qui stai un po spingendo l'equity perché lì c'è vabbè a 4.5 allora c'è l'incastro ma è un bordo dopo vantaggio di range rischi di 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 crearti le piatte ecco tipo questa situazione e poi chiami vabbè a questo punto lo sai più cosa fare e chiami di nuovo ecco nota c'è craze dove un po vantaggio di range resci better un po vantaggio di range sono cose da fare proprio poco poco perché alla lunga ti giochi male definisce un po con lo schiacolo schiantamento apri in due perri in un tavolo dove credo avrà tenuto una serie più grande ma va bene insomma le tavole importante aprirla vieni tributtato dal giocatore più nitti della storia delle tribet va bene la difesa in posizione perché siamo su iter e quant'altro check check i back va benissimo fai scala resi lunghissimo dovresti risare qua ecco di nuovo tu qua resi questa strana size per 3 su bet avversaria come se avesse senso di pensare al piatto e alza size qua in realtà contro questo giocatore la mossa più consistente più evi è andare all'indiretti cioè il tuo avversario ha tributtato pre e ha cercato flop qui ha dei set tipo asso qq qua qua raramente 99 direi a kq k jack anche lui chiaramente asso 10 a socappa soco l'unica mano che forse ti folda qua e jack jack ma comunque non ti avrebbe pagato e poi la stai bloccherando resa e alza size quasi contro un range che sai che cosa sostanzialmente quindi resa lungo vabbè poi asso è un disastro ma non è la fine del mondo comunque voglio betti ecco però non siamo neanche riusciti a metterlo lì in arriva però adesso adesso riserva full nel senso che ci sta 99 bottom range suo però le tue letture che su questo bordo il tuo avversario quando mette tansia fortissimo cioè poi così qualcosa per forza perché veramente resta jack jack penso sia l'unica mano che ha un po può avere debole qua ma kkk jack jack sono troppe bloccherate la size corretta qua e andaro lì su lettura ovviamente non è che andiamo sempre lì in eterna perché ci divertiamo a farlo magari ci divertiamo ma va bene a decidi per un collo in posizione marginale la tribetta più senso se contro comunque un venti di apertura e fra l'altro vista le tendenze se for metta poi fondare sereno e ti gira qq asso asso e kk e forse a k e va bene fondare a q ma chiamare p può aver senso per la nota che un tavolo molto fischioso riduce un po la size ma preferisco comunque tribettare il col può avere senso perché se contro 50 10 giochi p non è che non faccia soldi questa mano però preferisco decisamente tribettare ma gli obetti oppo minice cresa problematicissimo perché un giocatore di questo profilo minice cresa qua è questa nobile o poi bettato tu vabbè comunque chiama riresi ecco anche qua non c'è motivo fra l'altro a parte che qui sei sotto un treno quando fish fa check mini resi mini ribarre la mossa del nonno ti gira le bombe sacre cioè ti gira k passo asso kk e noi ci siamo cascati quando viene risato togli l'opzione tribet flop cioè pensa che non si possa mai riresare flop almeno in un contesto superfici particolari tipo sento qua i 3 3 fai benissimo a giocarla in quel modo ma non con questa mano e vabbè comunque andate un po alla battaglia di cigni oppo a k io ti direi tribeto pre ma dalla mascafondo facile giocare questa mano chiamo chiamo flop chiamare turn inizia a diventare in influente perché se oppo beta flop e beta turn con queste frequenze io direi che se ti va bene smegzi nel senso che qua non giochi più chi che era una mano terribile se check nota che potresti voglio mettere perché mani come k q q q jack jack oppo non le sa foldare voli mettiti tra i vari better e prendi soldi extra extra money a questa una partura leggermente luse ma va bene e viene tribettato la tua sinistra e la skywalker non vedo fold in generale 6 op andiamo a un attimo come risponde solver non che ci servono ma queste domani le sappiamo piuttosto bene credo comunque citri metta cat off forse era non mi ricordo una troppa importanza k jackoff sempre fold che è qui volevo arrivare non andiamo a giocare questa mano ai motivo di for bettare questa mano perché ho potrebbe da 15 e fold 80 per cento no folda è vero che la stessa piccolina ma sei opi sei ops in se rischio dominazione se controllo deserta itese andiamo a schiantarci vabbè flop le doppie strano che tu non abbia c'è cresato questa volta sono capitano pignolone questa volta potremmo voler c'è cresare allora dovremmo fondare però un giocatore di questo profilo che ci mette a 45 per cento su questo board è un board dopo vantaggio di range ma brocca con tutto il range praticamente c'è il suo range attraverso piccolo di ci mette che praticamente quanti gira k k q a su 10 cuori gira ovviamente due combo k k jack jack che ci battono ma soltamente bloccherate con 10 a pessimo perché migliora e range 10 10 asocco quindi è un disastro che amico la river esci mini bett alla speriamo che me la show v e te la show va ma te la show va da sopra resa flop e tanto questo po qua ti commetta ma più che altro mi raccomando il fold pro flop cioè giochiamo con criteri a criterio testa e lavoro lavoriamo per migliorare quello che facendo allora cosa è successo l'imp iso il tribetti un giocatore 30 15 che mi va bene questa tenta che ha un range abbastanza forte comunque un over player che poi gioca abbastanza caso e c'è una for bett qua di nuovo mamma mia però ha chiamato anche l'altro giova ai tuoi a capo scusa non è qua va bene allora manda sta vasca non è un buono spot perché sei contro il 30 15 3 ma il piatto è veramente gigante e ai dead money e la situazione è ok per mandare la vasca non è non è felice nel senso che non è il giocatore contro cui fai i soldi con a cappa ma è la move più evita giocare in questo spot poi chiamano tutti infatti dicevamo che non era la situazione più felice va bene non era felice ma non credo che in un contesto simile abbia troppo senso essere in call va bene contro un singolo giocatore in altre dinamiche ma qui viene squizzato dal giocatore più nitti della storia che però fa una set piuttosto piccola e ha in fish nella mano chiama for bettare qua non credo sia una buona idea perché qua oppo è talmente nittis al 68 che la fold equity penso sia bassissima e se rese a tipo 27 o può mandare la vasca chiaramente devi fondare c'è sicuro chiamare invece temi dentro anche fish giochi in una posizione piuttosto comoda in realtà perché hai l'altro giocatore prima di te insomma la situazione non è male e invece mandi la vasca ecco questa è un overplayata un po' shamalaya vabbè un po' assosso ma è di facile lettura mi raccomando ti ho passato anche materiale sul profiling approfondisci perché per questi steaks soprattutto serve tanta lettura qua per fare soldi in più vabbè questo link può anche starci vabbè gli obiettivi c'è chi tu colla suppongo perché ti piace l'idea di check risare i giocatori 50 10 è un 50 10 con bassa aggressività e basso fold non c'è motivo di risare adesso lui ti manda la vasca tu non sai fondare perché hai quattro quinti di tutto ma voglio betta ancora che può andare nel senso che hai una quantità di equity mostruosa oppure c'è colla se proprio non ti senti capitan spigui ma in linea di massima non ingrossare i piatti in questo modo perché non serve a niente nel senso oppo qua ti risa sul 2 e il 2 ce l'ha o comunque la mano decente ce l'ha visto il profilo che che mi sta girando stanno andando po schiantarti e più straight forward e la mano con un biliardo di equity beta beta e river su questo river non credo tu possa voglio mettere ancora perché i 7 non so se mi pagano e oppo non credo bleffi mai direi che più uno spot da give up talmente tanta equity che andava bene a fare un po di pot building difesa ok contro due giocatori nitti qua vabbè poi floppy qualsiasi cosa e chi è che ha rilanciato qua salsicciotto giocatore nitti che cerca range di salsicciotto che si capa tantissimo quando cerca in questa dinamica l'altro giocatore attento che è proprio un altro giocatore profilo abc con bassa bad verso smithed beta multi way a qualcosa nel senso difficilmente sta per fare te piace overplayare le mani quando è qualcosa nel senso è vero che questa mano è forte quattro quinti di scala colore quindi giocala come vuoi fai soldi ma non c'è troppo motivo di andare a risare qua nel senso che qua oppo ti gira sette scala e forse proprio non so asso 9 se nel suo range magari asso 9 suited 30 dovremmo andare a vedere un po di un po di stats per vedere il profilo di col col ma non ha troppa importanza attribuire a super range qualche doppia forse col 10 è un disastro bandi la vasca questa è rimasta un po dalle mani che mi è passato prima queste dobbiamo cercare di togliercene ci aggiamo le mani in maniera un po più motivata e pensando all'avversario qua tanto povere qua o po addirittura jack quindi più luce la sua bet di quanto avremmo detto da stats da bet da profilo non mi aspetto queste bet verso smithed neanche questo colo è fantastico della verità però 10 è proprio una carta brutta nel senso di 7 quando ti sanno fondare e perdi con un draghetto e qualche jack ce l'ha perché mani come jack 10 sono nel suo range anche se me l'aspetto più spesso risata flop ecco non mi aspetto mani come asso jack e k jack che sono giocato un po caso ma ogni tanto capitano proprio i doppi alzi size va bene ti resa un 16 13 7 che però una bassa tribet su un po il coordinato brocca sereno chiaro che ogni tanto gira su 5 su 6 ma ci girerà anche qualche asso tipo asso jack asso 10 e qualche asso sweet da quadri e qualche combo draw qualche quadro in generale quindi non credo la giocherai diversamente qua può mandare la vasca questa volta senso 9 7 combo draw non è uno spot a grandissime vie ma mi va bene in questo caso per l'idea della tribet flop ogni tanto bisogna tribet op tribet resa lungo mandi la vasca va bene tutto bello a k vince normalissimo ma non ci interessa molto voglio vedere altre mani altre mani voglio vedere altre mani apertura da lì tribet tico l'opi betti dove lo quanto 82 8,2 bui non capisco e 18 bui perché 8 bui ok va bene la bet qui c'è chi conta però un giocatore piuttosto passivo io direi che possiamo ancora ribettare in realtà non ho troppo motivi di cercare check resi ti piace check resare ecco preferirei evitare l'idea di cercare soprattutto in questa dinamica questo giocatore comunque che tipo sempre lui non so se sempre lui ma un profilo abbastanza passivo 30 di fall 25 degressor fra questi 30 diventa smith super tranquilli e sereno e qua fai più soldi mettendo piuttosto che c'è cresano il suo range di bett verso smith sarà più forte le sue indicò praticamente quando vedi a 78 disse mentre broccava con una mano più debole di quanto io pensassi o quanto pare opolo fa però mettere ancora che è più normale magari puoi ridurre un po size visto che con contando così così comunque anche il tuo avversario abbastanza l'overplay e qui cosa succede mega overbet pro flop di un giocatore nitti pazzesco robi matti te la manda folda secondo la giocatore capri 10 ti fa un everbet quindi puoi pensare metà range in questo caso tu le metti a 46 hai messo un buio lascia si lascia che sia e per vedere un attimo che equiti ai qua su oppo posponiamo caso normalmente oppo apre 10 cioè non possiamo avere un decade guessing tanto precisa normalmente apre 10 qua fa una big size per cui diamogli mezzo pot anche mezzo mezzo range anche se mi aspetto in realtà che non ha importanza insomma conquitiamole pure mezzo range il nostro 99 qua gioca ip ma gioca 33 lui ti mette al 46 folda questa mano non credo mai tu voglia giocare con cento bui qua con un lancio 14 per l'altro pazzesco aveva sto punto dici ma io sono più matto di te robi matti no scherzo comunque evita questi colpi che semplicemente ti alzano varianza e non servono a niente non è uno spin and go e si apre 14 per uno spin e con magari situazione differente o potrebbe tra poco bordo abbastanza orrido però se in una situazione fish questo giocatore for da 72 40 è ultra passivo metterei e tre anche una stessa un po grandina oppo donca va bene la difesa turn 3 mamma mia complicato ora in linea di massima comunque preferisco foldare non dico che ogni tanto non siamo buoni perché tipo 87 io immagino che ho come la possa giocare così e però poco altro forse a sotto picche 15 di don bet non è bassissimo da dire non ha mai qualche mano che battiamo tipo 9 9 10 10 visto che hanno abbassato i bet probabilmente sono anche queste nel suo range visto la don bet non so quante vi faccia però 50 bui dietro e il 3 migliora un po i suoi range sì perché se betta le bile betta anche mani come a 4 picca 4 cuore a 4 quadri sono più sul fold però ti assicuro che questa mano mi dovrei andare a vedere contro che rende stiamo giocando turese perché domani non c'è 88 ok quindi comunque mano un po letta ma nella sua parte abbastanza forte comunque poi esce l'otto quindi in realtà eravamo buoni noi generale abbastanza in dubbio squeeze col mandala vasca e un 30 20 10 e credo che broccherei qua questo è un giocatore un po più loose del normale jack jack va bene ci sono di dentro che ama anche l'altro questo è un problematico tutti jack jack avete tranne su q che la mano peggiore ma vince lui legittimo ma la tua giocata qua è corretta non c'è problema va bene insomma un po di mai di cosa che stiamo vedendo apri tri bet con il 60 10 betti sei non è proprio la miglior size o ti critico tutte le mani praticamente il tuo avversario 60 10 5 aperto chiamato folda generalmente poco io ti direi sei qua tu per fare i due conti se tu betti 12 per dire una size a caso oppo chiama prendiamo caso che chiami e sono 24 57 con dietro sì circa 50 10 52 e mezzo quindi riesce a staccare molto felice al tarn e la 6 piccola non è un gran che perché ti direi che se tu fai questa size poi oppo chiama 13 il pot 45 e resta indietro con 58 e cosa fai over betti o lin non che sia male e però gli anima se non è ancora che alzerei un po sai c'è lei ridotta andando un quinto pot 6 per 5 30 sì io l'avrei tenuta un po più alta proprio per creare pot poi ora qua io non so fondare mi preoccupa un po questo profilo ma comunque un po girarci male come a q a jack e kq cuori e capa quadri capace cuori un sacco di mani che ancora battiamo quindi chiamo abbastanza felice a su 10 ci sta però la scelta della size un po da rivedere a mio avviso in queste dinamiche apre tribet squeeze mago di oz canic fantastico rilancia veramente poco 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 ea serie tribet 4 di squeeze la mano è un po al limite comunque la possiamo giocare credo che faccia dei stessi soldi sia risata che no poi dopo chiama adesso questo è un disastro perché ha tribetato e chiamato non so quanto a k c'è la mandolin perché due volte su 225 è un po terribile può avere ancora jack jack 10 10 ancora k quello è un po il problema che sono un sacco di combo situazione super complicata decidi di mettere 22 chiama e qui prendi ecco vabbè vabbè 17 bui chiama lì per carità non c'è problema ecco se a tutti gli a k anche non risate pre e diventa complicato perché qua non fai mai soldi ora foldare river per 10 bui non si può fare ovviamente però chiaramente siamo contro il gioco face up e siamo un po tristi e ammesti tristissimi over limpi decidi per un over limp curiosa questa scelta vabbè over limpiamo non importa over limp call check 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 set i reisi non resi e borda anche abbastanza dry vabbè insomma pace mano strana non so se voglio commentarlo per l'impate queste cose non saprei cosa dire cioè preferirei non farlo apri due e mezzo tribet questo giocatore ha 63 di fold tribet da small blind una frequenza abbastanza alta guarda come risponde solver e decidi la tua move ardu qua sei cutoff quindi cutoff fai fondare gli altri per favore cutoff apre bottone fold small blind tribetta e sta a noi eccolo qua eccolo qua adesso 10 suited per quello che ti dicevo andiamo a vedere è più una for bet piuttosto che no qui contro questo giocatore in particolare se contro un range abbastanza grande in blind vs blind pensa a 2 tu hai 8 lui comunque a 12 c'è un po più il uso nelle tribetta e sta tribettando con una linea di fold alla for bet abbastanza alta maggior ragione preferisco l'idea di forbe spostarla in for betta è una mano di soglia cioè va giocata contro tribet non è che la andiamo a foldare ma quando decidiamo dove metterla cerchiamo di avere una criteri di lettura tu qua decidi di richiamare che è un po' un disastro su questa bet difendiamo tan esce cuori betti piccolo river esce jack e check back adesso non so cosa hai fatto betti cerchi di dare argomentazione cioè nel senso questa è una bet per pensaci fai foldare a k non lo so forse fai foldare a k forse sì forse no va bene è possibile però uno qualsiasi coppia non avrebbe foldato ma best fai foldare a kq magari qualche senso a sono abbastanza combo comunque c'è che va bene e pace avrei preferito for bettare per flop questo in generale qua vabbè un po da una donna pace questa è una mano un po particolare ma più che altro nel pre flop mi raccomando è più una for bet che un collo in quella dinamica e apri qui sei op board di vantaggio c'è colli con jack c'è colli ancora non vuoi mollare praticamente vabbè credo che si possa giocare diversamente valuterei l'idea di mettere flop poi dipende come costruisci la tua linea op perché questo sia un board di vantaggio ma un board abbastanza trash cioè perché e sei op contro giocatore nitti e comunque ne beta 3 25 20 20 linee bassissime river dove foldare qua contro queste betti grandi poi fra l'altro avanti prima ma chiami 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 over bett river di questo profilo e value betta c'è poco da fare non isoli e può anche andare anche se francamente contro giocatore così immagino siamo forti ma è comunque di mid stack e va bene anche vabbè allora se mini betti per farlo un po tentare mi va bene perché coraggioso è letteralmente coraggioso essendo che lui è spigui preferisco l'idea ricercare ma l'idea è che metto apposta per farlo spiegare può avere senso al momento lì in pace qui è una mano un po particolare ma se contro spirito anche passato video materiale non credo di avere più tempo per guardare altre mani perché ho un altro video da fare e siamo verso la fine delle review pre estive impazzisco un co visto abbastanza cose interessanti credo a da per completare la tua review precedente sulle mani di prima attento che ancora la mossa dell'all in diretto shamalaya ma anche a lettura sui giocatori il profilo pre flop te l'ho scritto anche su skype ma te l'ho anche fatto una sorta di ressuntino anche qua ci sono abbastanza cose da sistemare ma già mi fa piacere che tu sia riuscito a passare dalla linea che mi ha fatto vedere precedentemente a questa impostazione che già discreta per indagini 10 dobbiamo lavorare un po di più dobbiamo cambiare un po le nostre sorti prendere il mare il nostro destino che sto sparlando dico sciocchezza quindi forse è meglio che io vi saluti i ragazzi perché per il video di oggi è tutto un saluto alla prossima dell'orca in mai mai